Nell'ambito di mirata attività la polizia locale di Reggio Calabria ha denunciato tre persone per abuso edilizio e occupazione abusiva di suolo comunale. Il personale del servizio operativo agli ordini della dottoressa Malara ha riscontrato su uno suolo pubblico a nord della città una serie di manufatti non assentiti da alcun atto autorizzativo, procedendo così a notiziare l'autorità giudiziaria e l'ufficio tecnico competente. Trattasi principalmente di opere accessori e pertinenziali ad immobili preesistenti. Sempre nell'ambito del dispositivo anti-covid-19 sono stati sorpresi e sanzionati numerosi giovani che creavano assembramenti senza mantenere il distanziamento sociale e senza fare uso della mascherina. Recuperati inoltre sette veicoli, cinque carcasse e due privi di copertura assicurativa abbandonati su area pubblica. Continuano inoltre senza sosta anche i controlli stradali. Le unità agli ordini dell'istruttore Garofano stanno battendo il territorio comunale da nord a sud al fine anche di alleviare i disagi causati dalla parziale chiusura dell'arteria autostradale a causa dei lavori di rifacimento programmati dall'ANAS.